È un'occasione importante per fare il punto sulla sicurezza del lavoro in un ambito strategico per la crescita della nostra regione che è il porto. Il porto è sede di tante attività lavorative e anche sede di un incrocio di merci e di passeggeri. C'è un progetto per cercare di riportare una centralità, maggiore sicurezza sul lavoro e anche maggiore sicurezza ambientale in uno dei luoghi più strategici non solo della nostra regione ma dell'intera area adriatica. Su questo lavoriamo. Voglio ringraziare il direttore Contenti per l'iniziativa che ha intrapreso oggi insieme al presidente dell'autorità di sistema portuale Carofalo. È sicuramente un'occasione per approfondire temi importanti, quali la sicurezza dei lavoratori e di tutto l'ambito, ma anche un tema per fare il punto della situazione che guarda al futuro, che guarda le sfide che dobbiamo affrontare tutti insieme.